Nonostante la crisi e i debiti galoppanti, la gente ha speso, consumate e fatto vacanze sulla neve in questo periodo. Eppure, così come è entrata in crisi la società del XXI secolo, secondo esperti ed economisti, tra loro molto potrebbe cambiare anche il cosiddetto consumismo. Non sarà infatti più possibile consumare, consumare e ancora consumare, ad esempio comprare un'automobile, quando basta una bicicletta e c'è chi prefigura già un ritorno all'antico baratto. In questi anni si sono accumulate tante, troppe cose, tv, lavatrici, telefonini, quadri, cravate, perfino scarpe. Una società dunque ricoperta di oggetti e così si è perso il gusto di come è fatto una cosa e suo vero valore. Si vuole solo e soltanto possedere un concetto però antiquato che apparteneva ai secoli scorsi e non va più per i tempi moderni. E chissà se dopo questa crisi conosceremo anche la decadenza e non cambieremo lavatrici ogni mese e telefonino ogni settimana. E a guidarci nella riscoperta e la parsimone della sobrietà dovrebbe essere anche la politica che ci amministra, ma purtroppo in tutti questi anni, basta leggere le croniche, non ha dato certo un buon esempio.